Il tema principale di oggi sono le autonomie, cosa vuol dire per i comuni come i vostri? Un concetto come questo spesso oggetto di dibattito in politica? È chiaro che ripartire dai comuni significa anche metterli al centro di politiche che siano il più possibile innovative. Noi dobbiamo ripartire dalla comunità locale con un assunto, che gli stessi servizi che si danno alle grandi aree metropolitane e dobbiamo garantire alle realtà di provincia e quindi sul tema del welfare, sul tema della sanità, per non parlare dei trasporti e dell'innovazione, dobbiamo far sì che la stessa autonomia che chiedono con forza le comunità locali corrisponda effettivamente a più risorse e soprattutto servizi adeguati e servizi innovativi.